This is heaven Siamo arrivati alla quarta stagione, ok? Stagione cruciale perché dopo aver fatto la terza stagione che era la stagione un po' di lotta per la salvezza in Serie A ora abbiamo un Como che può aspirare a qualcosa in più per questa quarta stagione ma per farlo dovrà fare un mercato perfetto ricco di grandi colpi e di grandi manovre anche in uscita dovremmo fare un mercato quasi perfetto abbiamo già iniziato, in che modo? cedendo dei giocatori preziosi ma non indispensabili dei giocatori che hanno anche avuto un legame affettivo con i tifosi ma che forse adesso non sono sufficienti per puntare a finire nella parte alta della classifica perché è un qualcosa di folle lo potremmo provare a fare un po' seguendo il modello Atalanta di qualche anno fa ma per farlo dobbiamo gestire molto bene i nostri giovani che noi ormai abbiamo chiamato l'Accademia la nostra primavera perché ha veramente sfornato un sacco di giovani alcuni van venduti, alcuni vanno rilanciati come Ferrari che torna dal prestito al Genoa e si prepara ad essere titolare in una nuova squadra composta sempre da un 4-3-3 ci vorrà quindi un mix tra giovani ed esperienza e soprattutto ci vorranno dei pezzi importanti da aggiungere a questa squadra in particolare il centrocampista centrale perché abbiamo mancato un po' di qualità e di sostanza l'anno scorso abbiamo preso Bakayoko che ha fatto molto bene Bernabè l'abbiamo preso a gennaio ma adesso serve anche un sostituto di Baselli e poi secondo me servirà anche qualcosa in difesa e un nuovo portiere perché abbiamo ceduto Turati alla Lazio solo per il realismo perché non lo avrei mai dato via a squadre a caso ma quando ho visto arrivare la Lazio ho pensato va bene è un portiere giovane che ha fatto un'ottima stagione ed è giusto che vada a giocare nella Lazio noi però in compenso abbiamo già osservato dei portieri che possono arrivare al suo posto e il portiere soprattutto che ci ha attirato di più è Mattia Perin che ha finito il suo contratto alla Juve non lo rinnova è un giocatore che ha fatto per anni Juve Genoa Genoa Juve Juve Genoa adesso vediamo se riusciamo a convincerlo a venire da noi visto che il contratto è scaduto non sarà più il secondo portiere della Juve potrebbe rilanciarsi come primo portiere di una squadra di media classifica quindi sarebbe ottimo questo perché Montipò dell'Elas Verona è andato al Celta Vigo Vicario sarà fortissimo e poi è andato al Feyenoord quindi Perin mi sembra la prima scelta poi in difesa sto osservando Milan Van Eyewijk che mi piacerebbe molto però abbiamo già preso Maga a gennaio quindi dobbiamo anche dare fiducia a quelli che acquistiamo piuttosto possiamo pensare di andare ad aggiungere un difensore centrale e creare una coppia Binks più un altro difensore Bianchetti è vero che ha fatto un'ottima stagione però tra età e overall si è un po' bloccato e stavamo pensando a Caleb Ocoli oppure Ostigar che fa il sostituto al Napoli insomma un po' di nomi ce l'abbiamo anche per la difesa meno che per il portiere ma li abbiamo e a centro campo la sfida si fa veramente veramente intensa non mi riferisco ai Cdc mi riferisco ai Cc dove abbiamo in lizza per un posto da titolare nel nuovo Como abbiamo Nicolas Raskin che vale meno di 20 milioni lo stipendio è basso gioca ancora in Belgio e ha 24 anni lui ha anche roccia ed è un giocatore molto equilibrato può fare veramente il box to box quindi è ottimo abbiamo Ugrinic che è ancora lo Young Boys è 80 di overall svizzero che ci manca uno svizzero per una squadra come il Como che è veramente al confine con la Svizzera lui ha anche leader ed è vabbè inutile dirlo lui è un fenomeno altrimenti altri giocatori perché qua sapete che ci rendiamo sempre la vita un po' difficile abbiamo Coindredi francese del Deportivo Alaves che è in seconda divisione spagnola e quindi ci starebbe tantissimo prenderlo possiamo anche prenderne due da questo punto di vista solo mi viene da penalizzare un pochino i mancini perché abbiamo già come mancino Bernabè e quindi volevo andare più su centrocampisti con il piede destro un occhio a Zurkovski che potrebbe essere un po' il nostro Zielinski anche Franks vorrei sapere quanto è di overall adesso dopo il prestito al Milan Barreiro Martins ha il problema dello stipendio perché è andato nel campionato inglese quindi vedete che purtroppo ci sono anche questi aspetti quindi sono andato a vedere anche il campionato francese che magari come prezzi è più ragionevole abbiamo Moriba Fulgini abbiamo anche Roux che qua è all'Orlando City 20 anni francese lui però è Regen quindi bisogna capire anche un po' che senso abbia c'è Belgaard che non è male ce ne sono veramente tanti io aspetterei perché di alcuni non abbiamo ancora reso conti quindi abbiamo anche il problema dello stipendio da tenere in considerazione invece in attacco per il momento siamo a posto se dovesse andare via Pedro Mendes non male un ritorno di Lorenzo Lucca in Italia visto che qua è al Saint-Étienne mi sembra un po' poco per uno come lui però lui è veramente a pochissimo equilibrio agilità elevazione intercettazione cioè lui è un attaccante puro che metti sotto porta e ti segna di testa se volessimo qualcuno di un pochino più versatile a me piacerebbe prendere piccoli dall'Atalanta che si ha tanto di ingaggio se no ce ne sono altri comunque molto forti ma dipende tantissimo da quale sarà il destino eventualmente di Pedro Mendes sicuramente bisogna aspettare che i nostri osservatori ci diano un resoconto dei giocatori l'unico che mi preme è Perin che magari andando avanti firma con qualche altra squadra io personalmente proverai a prendere Perin subito tanto al massimo si gioca sull'ingaggio allora ragazzi andiamo su Mattea Perin contatta per acquisto ce lo vedrei benissimo dopo aver fatto il primo al Genoa il secondo la Juve 32 anni cosa poteva chiedere di meglio certo è un personaggio importante per esperienza per giocatori con cui ho allenato quindi è quello che ci serve adesso piuttosto puntare un po' di più sui giovani in campo ma avere un portiere che possa non farci rimpiangere turati ok e quindi Perin fa il caso nostro clausola niente adesso per lo stipendio se devo chiedere io sono un po' messo male io proverei a offrire 15.000 di stipendio ma secondo me sarà un po' poco 20.000 al momento li prende solo Pedro Mendes lui secondo me prende un ingaggio alto dai solo per l'esperienza e per la forza per me 20.000 ci può stare e poi gli diamo mezzo milione come bonus ingaggio al massimo contrattacca avanza offerta e qua subito è arrivato Mattia Perin grande Mattia allora poi proviamo a gennaio ad abbassarglielo con un rinnovo arriva con una bella A perché chiaramente arriva svincolato sostituiamo turati che abbiamo comunque venduto a una buona cifra per Perin a zero e quindi possiamo spendere più soldi in campo risolviamo il discorso portieri anche qualora volessimo fare delle simulate serve il portiere un po' più forte quindi secondo me abbiamo fatto il rapporto qualità prezzo un colpaccio abbiamo l'espagnol io farei anche una velocissima partita anche solo il primo tempo per testare Ferrari e Perin guardate che ragazzi il realismo puro si raggiunge quando si giocano anche le amichevoli perché fa capire quanto ci teniamo a fare un ottimo mercato quest'anno io vedo Bakayoko molto bene mamma mia ragazzi come si fa a mettere in panchina Bianchetti però lo capite anche voi che non ha senso non più ventenne cioè ora servirebbe altro comunque arriva subito un gol di Cabral poi dopo sapete per valutare i portieri ci vuole tempo qua Perin si è fatto battere io credo che alla lunga Perin tirerà fuori la sua forza perché è uno di quei giocatori che su FIFA è forte dal 2013 ve lo dico perché qua ho concesso un rigore intanto vediamo se Valentini para un rigore va bene bravo Valentini allora siamo di fronte al Real Madrid non ho mai visto una squadra più forte di questa qua devono mamma mia vabbè ragazzi abbiamo beccato la partita sbagliata devono tantissimo ultima volta in vita mia che gioco un amichevole avanza chi è che arriva chi è che arriva oh ha già giocato ma arriva adesso a salutare anche lo spogliatoio Mattia Perin e andiamo viene presentato Perin con la nuova maglia che devo dire è bruttina io farei un breve giro di piani di crescita per me primo e secondo sono Perini e Valentini che sono ottimi Pietretta e Ioannu poi abbiamo Bianchetti Romagna in prestito Rizzo ancora in prestito vediamo il piano di crescita lo stiamo trasportando a cc 15 settimane Garritano sul mercato Grönbeck Martinelli prestato esposito in prestito Colombo e Rossi prestati Casa Dei Celibini in prestito Brenner e poi in attacco abbiamo Mendes Nemeth e Weghorst che io farei personalmente se dovessimo cedere Pedro Mendes io terrei Weghorst e Nemeth e basta perché Weghorst deve giocare tanto se no crolla molto velocemente di overhaul e diamo spazio a Nemeth come subentrato molto spesso al posto di Weghorst che così diventa in breve tempo molto forte 22 anni 76 ha fatto bene abbiamo visto da come gioca che può essere il giocatore giusto non lo so sono ancora indeciso non siamo a un trio solido questo un terzino e due cicci forti ci servono abbiamo 55 milioni ce la possiamo fare questo Rodriguez del Monaco potrebbe essere interessante però sapete che qui Reggiane c'è sempre un po' un rischio terzino a sinistra a me piace Manhoof però riconosco che è molto offensivo e quindi ragazzi sulla sinistra in realtà ad oggi abbiamo pochi nomi quindi io andrei a mandare un osservatore anche a vedere i terzini qualsiasi terzino va bene però basta che sia da prima squadra andiamo a fare un giro in B per vedere se c'è qualcuno di buono a questo punto nel ruolo di difensore Bellanova in B 80 di overall follia col contratto in scadenza occhio eh c'è Cacace in B centrali forti non c'è traccia al momento beh Lautaro Giannetti non sarà da buttare penso proprio di no se noi se noi dessimo in scambio Vignali nella trattativa per Bellanova e teniamo Maga comunque come importante che può subentrare lo alleniamo anche sì ragazzi Maga è come Petretta perché è Maga ma non può Vignali è vero che è una bandiera però è anche vero che è un giocatore che secondo me in serie B può dare tanto in serie A un po' meno ma Bellanova mi piace perché almeno investiamo un po' di nuovo sugli italiani non si priveranno del giocatore ma siete pazzi col contratto in scadenza questa notizia mi ha devastato nell'anima toccherà prenderlo a 0 a gennaio mi dispiace per i Cagliari io andrei a simulare voglio vedere un attimo se arrivano offerte abbiamo ancora troppi giocatori in rosa Brenner l'ho messo a T perché così è salito Brenner da T saliva di 1 e quindi l'ho messo a T perché volevo un attimo sbloccargli di nuovo il potenziale però adesso da A D ci mette 94 settimane quindi ci mette di meno da T quindi è proprio rotto purtroppo Brenner e proprio perché ci tengo proviamo a farlo anche giocare sempre come Ala perché poi queste cose vengono sistemate simulazione veloce segna Brenner e Wegghorst perfetto proprio i due che hanno il problema del potenziale va via Touré un applauso a Touré che addirittura abbiamo votato come decimo giocatore dell'anno tra i centrocampisti del 2022 quindi insomma anche lui con la cravatta regalata da me a Natale purtroppo la ruota gira è arrivato il momento per lui di andare a giocare in Inghilterra e però in Serie B è stato io lo considero il miglior acquisto che puoi fare con una squadra di Serie B ora Cabango quant'è 76 non ha troppo stipendio gioca in Championship lui rientra tra i papabili allora qua come sta andando giovani che fan cagare mi sembra cosa succede per il primo anno dobbiamo pensare che i nostri giovani fan schifo ed Everton su Casa Dei ma lo fan giocare rifiuto no no Casa Dei mi deve tornare che è un 90 e per farlo deve giocare in una squadra più piccola Van Hewey che è un 79 Frendrup 78 la Z vuole acquistare Valentini il nostro portiere rifiuto devo rifiutare ma fatemi vedere un secondo Mucoco che gioca da noi in questa carriera lui gioca in Serie B alla Sampdoria ok questa cosa potrebbe farmi girare il matto se vendo Pedro Mendes Simula veloce Simula veloce perso bellamente perso bellamente ok finalmente abbiamo finito anche il periodo della Coppa Internazionale Europea unica nota positiva di quest'anno non ha più validità su tutto il resto dell'umore della squadra e nel frattempo l'Atlanta United vuole offrire 8.2 a Brenner ecco questa cosa mi uccide c'è lui che gioca nel Cincinnati va in Belgio va al Como si rompe non si riprende torna in MLS qual è realismo grondante in un'altra carriera ci rivedremo io e te ok è una promessa qua è andata male lo riprenderemo è una carriera che ci ha ucciso quest'anno una carriera che ha strappato il nostro cuore dal petto e lo ha messo in vendita comunque Fleming addirittura adesso è bloccato al Millwall non lo vendono più è una vita passata così a meno che non prendiamo talle smagno no è andato via da poco ma ragazzi ma questo è volete uccidermi i sogni volete uccidermi i sogni serve un brasiliano no non è obbligatorio ci prendiamo giuvio e poi andremo a vedere sul mercato dai e ho visto che difficilmente abbasseranno provo a offrire 7 vogliono un emet wow ma siete matti 8 e mezzo posso arrivare tempo 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 sono pazzi dai accettata tratta importante ci sto 5 anni ci sto musa stai arrivando eh sei pronto a fare il nuovo Brenner guarda che è un posto difficile il tuo allora devo dire che è un buon agente perché rompe parecchio le scatole però sono riuscito ad abbassare a 16.000 speriamo che non si rompa l'ingresso che almeno me lo facciano godere il tempo necessario comunque arriva Mujo Juvara che è un giocatore su cui ho messo gli occhi dal primissimo anno con questo como che per i motivi precedentemente elencati ha senso secondo me prendere la valutazione è una A speriamo non ci faccia rimpiangere Brenner io purtroppo giocarmi Brenner non volevo è tanto un giocatore che non sarebbe più salito di overall e quindi l'ho fatto andare secondo me nel posto dove potrà ancora rendere alla grande e al suo posto viene Juvara che tra l'altro ci fa rendere più felici la dirigenza perché abbiamo preso un giocatore nel ruolo probabilmente che era da loro richiesto ma è un colpaccio mettiamo a D sale pure dai Brenner non mi guardare così Juvara è più giovane l'ho pagato uguale e mi sale anche dai Pedro Mendes è arrabbiato per il contratto occhio perché qua è cruciale lo metto importante Pedro Mendes cruciale bravo Pedro com'è così accetta ok quindi era un rinnovo non tanto per rompere le palle sullo stipendio a mercato adesso è arrivato il momento per quelli forti perché dopo questo scambio inatteso Brenner Juvara arriva il primo colpo folle di mercato preparatevi tenetevi forti perché questo sarà veramente un momento impegnativo e cioè il sondaggio per Ugrinic che vale 26 milioni gioca in Svizzera ma qua c'è scritto che possiamo provare a chiudere offrendo 20 io partirò da Ugrinic se poi qualcosa dovesse andare storto attiviamo un sondaggio e andiamo a vedere se riusciamo a trovarne un altro ma per me lui è perfetto lui potrebbe essere qualcuno ha definito il malong bianco ma io non amo queste distinzioni quindi evitiamo di parlare di colori guardiamo più che altro il verde questo è un colore che a Ugrinic gli si addice dal momento che è verde ovunque è leader di uno young boys che però oltre il campionato svizzero non può andare quindi ora è la sua occasione aspettava magari una chiamata dalla premier dalla bundesliga ma invece no lui è il classico svizzero di origini balcaniche che viene in Italia a spaccare tutto 88 kg di uomo 1,84 io proverò a offrire 18 milioni se ce la faccio